della salernitana, grazie. Vai vai, siamo fiduciosi, vai. Come scusi? Che se lo suonino a Salerno, già ho detto un'altra volta che è la più brutta città d'Italia. No, no, ma lei è pazzo, questo lo dice lei, noi non lo diciamo, a Salerno tutti i migliori miei amici, scusi. Ma è tra le più belle città d'Italia, Salerno. Ma che siamo matti? Ma lei è totalmente infazzito, lei ci vuol creare un problema diplomatico, cioè non bastano loro, ci si mette anche lei. Se lo scuse Luca, Ma è da poco, da poco c'è il presidente della Campania che è di Salerno. Un nuovo presidente, Ierbolino, adesso c'è un attacco frontale. Ma libertà di parola, non è che può dire una città fa schifo, siamo mica a casa sua. Lo pensi ma non lo dica, lo pensi ma non lo dica. Piero, sì, prego, pregati. No, volevo solo dire che, attenzione, anche perché è così, che a livello di squadra è ultima in classifica, ma a livello di tifo e di calore e di affetto verso la squadra, anche a San Siro, Salerno è straordinario. Oh, meno male, abbiamo recuperato il mal tolto, insomma, più o meno. Però dica una bella frase su Salerno, velocemente. Ma no, ma... No, basta, 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 basta. Allora, facciamo una cosa. Nel meridione sono più caldi, è per quello che... Ma cosa dico? Posso ringraziarlo, perché appena arrivata mi ha detto, ah ma te sei la ragazza di Salerno, ora capisco. No, perché me l'hai detto? C'è perché ti sono a sui cosiddetti? Salento, di Salento. Ah, sì, Salento. No, ma la verità è un'altra, lui suona benissimo il pianoforte, però quando canta è ancora meglio. Sentiamo che cosa canta, prego dalla regia, là, prego. Senza un'altra... Deve essere successo qualcosa, perché l'ha detto con una faccia così cattiva, con una tale cattività. Lei ha suonato a Salerno? Una volta. E come è andata? Ma non è che come è andata, era un posto pessimo. Eh no, basta, basta, basta. Un posto pessimo, un piano, un piano. Basta. Ha il diritto di dire anche quello che pensi. Sì, ma dobbiamo parlare dell'Inter e del Milan. Allora, facciamo un giro di domande rapide.